ci troviamo lì avanti mincharella quello è attraversi andiamo allora ah c'è di lui ma 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 quindi la Sì e 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 ma se ti liberiamo lì se liberiamo quell'angolino lì vengono su tutti più facilmente perché teoria non acchiaffi dentro l'albero fatti fuori e infatti no si ma non va su ho visto a te come hai fatto ad andare su ma io non sono buono così anche perché arrivi a metà anche perché arrivi a metà vuoi provare no di traverso dici grazie 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 se non ci aiutiamo andiamo via più di qua se non ci aiutiamo non andiamo via più da qua non c'è un'altra via non c'è un'altra via grazie